Una piantagione di droga prodotta in una masseria tra il Maceratese e il Fermano, un arresto con maxi sequestro di 108 kg di marijuana. Questo l'esito di un'operazione condotta dal nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei Carabiniere di Macerata dopo un'importante indagine sul traffico di droghe in provincia e fuori. Ai nostri microfoni il Maggiore Luigi Ingrosso, comandante della Compagnia dei Carabiniere di Macerata, spiega come si è svolta l'operazione. Un'importante operazione messa in atto dagli uomini del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Macerata, i quali da tempo si erano accorti di un consumo eccessivo di marijuana in zona, un consumo eccessivo che probabilmente portava ad una verosimile piantagione tra i confini tra Macerata e i confini del Colfermano. Ci sono giorni di servizi, alla fine hanno individuato un capannone come potenziale luogo di coltivazione della marijuana, hanno effettuato dei servizi, hanno visto un andirivieni di autovetture, il 10 marzo hanno deciso di intervenire ed effettivamente la scelta è stata ottima, in quanto hanno scoperto questa coltivazione stupefacente perché hanno recuperato oltre 800 piante di marijuana per un peso di oltre 100 kg, sul mercato avrebbe fruttato circa 50 kg di marijuana per un valore di 250 mila euro. All'interno della masseria i carabinieri hanno trovato 821 piante di differenti tipologie e dimensioni, dai 60 cm sino a 2,5 m di altezza, le hanno repertate, recise e poi sequestrate. La piantagione era una perfetta coltura specializzata, predisposta ed attiva con attrezzature per migliaia di euro, un sistema di irrigazione costante e temporizzato con riciclo dell'acqua, 100 litri di fertilizzante, 40 lampade termiche a diversa diffusione di luce per simulare le varie fasi della giornata, 35 ventilatori, 4 cappe, 5 climatizzatori, 10 termoigrometri digitali, 10 temporizzatori di corrente, 8 deumidificatori, 5 aeratori esterni, 2 pompe idrauliche e perfino il kit chimico per stabilire la qualità del raccolto. Il tutto cablato da un impianto elettrico enorme con una bolletta da 1.500 euro al mese. Lo stato di maturazione delle infiorescenze ed il THC, la quota di tossicità delle piante, erano a livello più alto, pertanto in questi giorni sarebbe avvenuta la raccolta e la successiva lavorazione ed immissione sul mercato. Il barattolame di vetro rinvenuto, 30 vasetti da 2 a 4 chili, era pronto per essere riempito di marijuana lavorata. La pericolosa organizzazione illecita è stata fermata dai carabinieri che hanno sequestrato tutto il materiale e lo stesso casolare. L'uomo, un cinquantenne fermano, è stato arrestato con l'accusa di detenzione, coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Dopo la convalida dell'arresto è stato ristretto a domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di fermo. Dopo la convalida dell'arresto è stato ristretto a domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di fermo.